Sbalvolazione R, è proprio una radio che mi piace proprio Radio Sky FM Pubblicità Fashion Jingle La tua radio ha bisogno di più colore? La tua radio ha bisogno di più colore? Fashion Jingle Produzioni innovative per dare colore alla tua radio We work for you Per la distribuzione in Italia Infochiocciolaradioskyfm.it Infochiocciolaradioskyfm.it Fashion Jingle We work for you Non mandare email Usa Whatsapp 348-321-1235 Messaggia gratuitamente agli svalvolati on air in diretta Usa Whatsapp con gli svalvolati on air Adesso Svalvolazione Bring the action Odarge, pompa la sta stalla Odarge, 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 pompa la sta stalla Bentornati Con gli svavosi on air Orjanello Siro Ok, quasi tutto Anzi Oserei dire Tutto lo staff Al completo È arrivato Non succedeva da lontano 1974 Di avere tutti i componenti presenti Volevamo salutare il nostro Alonso Ciao Sfigato Questa godo Con questa barba Sembra Alan Una notte da leoni Alonso come stai? Un po' che non ci vediamo Vieni qua a parlare Non fare il timidone Siamo diventati un tuttuto Tutto a posto? Mi tocca le mani però Allora noto che mentre sei stato via Hai studiato nuove tecniche di abbordaggio Sì che ha guardato anche lui documentari Che ha guardito È vero è vero è vero Ha detto documentari? Ci colleghiamo? No Allora va bene Alonso grazie Adesso ti puoi levare il cazzo No no scherzo grande Ma ci hai lasciato con un dubbio Esatto vi ho lasciato con un dubbio Sicuramente tutti a casa Vi starete chiedendo Chissà che cosa sa digital Io mi stavo tagliando le vene Eh immagina Al minimo adesso ci dici che la Coca Cola è verde No Magari ci dici che va a Buon Natale Poi allora se volete confermare Non mi ricordo precisamente Cioè Già iniziamo Nel dettaglio però Stai già mettendo le mani avanti? No Ma la notizia è questa Cioè Negli anni indietro Tipo penso negli anni venti Non dare dare Non sei sicuro Comunque Tempo fa Quando Coca Cola Non era ancora internazionale Ma era distribuita solo In una parte di America In un'altra parte di America Veniva distribuita la Pepsi Appena nata anche lei Nata dopo la Coca Cola Ma comunque Stava nascendo anche lei Per un periodo però Pepsi è andata in fallimento No diciamo E Coca Cola ha finanziato la Pepsi Sì Allora No È diversa la cosa Forse secondo me Forse È diversa la cosa Aspetta perché A Coca Cola è stato offerto Di comprare Quindi acquisire La società Pepsi Cola Ma Coca Cola ha rinfiutato Perché non lo riteneva Un valido marchio Giusto Quindi Coca Cola Se avesse comprato Pepsi In quegli anni Avrebbe In pratica eliminato La sua diretta concorrente Il suo più grande concorrente Per tutti gli anni a venire Invece non l'ha fatto Perché pensava che Pepsi Fallisse Cemi E invece no Qualcuno ha una barretta di cioccolato Una zoletta di zucchero Perché? Perché devo dare energia Il mio che cazzo Ne ne frega No ma Questa è una notizia curiosa Pensate a volte Come vanno Se tu ci pensi Oggi però La parola più conosciuta al mondo Abbiamo detto che è Pepsi No Coca Cola È Coca Cola Quindi cosa vuol dire Che anche non comprando Quei diritti È riuscita comunque A tenere il potere Certo però sai Comunque c'è sempre La concorrenza Tu cosa preferisci La Coca Cola o Pepsi? Io bevo tutte e due Io bevo tutto Volevano ottenere Un nemico che fosse scarso Per quello Ma non è poi così scarso Almeno potevano dire Sono più bravo Ad esempio la famosa Battaglia di pubblicità Tra Pepsi e Coca Cola Quando Pepsi C'era una certa Bellissimo L'ho vista Però non ci ho voglia di spiegarlo Dai Allora la pubblicità Più bella Secondo me Della Pepsi Che ha fatto contro Coca Cola O viceversa Non mi ricordo Era che un bambino Andava alla macchinetta Prendeva due Coca Cola Due Coca Cola Le metteva per terra Ci saliva sopra con i piedi Per arrivare a prendere la Pepsi Per cliccare il bottoncino Qui non arrivava Io mi riferivo a un altro Tipo di pubblicità Quella Sui cartelloni No quella con Una certa Britney Spears Nei suoi anni d'oro Grandissima Jumenta Non me la ricordo Non se la ricorda nessuno In realtà Quello striscione Di 7 metri per 4 C'era solo Sironi In camera sua E che calli Andate a vedere Perché poi La Coca Cola Aveva Assunto per pubblicità La concorrente Di Britney Spears In quegli anni Che non mi ricordo Neanche chi sia Amanda Lier Amanda Lier Ciao bello Famosa pop star Degli anni 90 Ho trovato nuove esperienze Andiamo avanti a parlare La Coca Cola è verde La Coca Cola però Veramente è verde Però con l'aggiunta Di un colorante Viene fatta marrone Adesso A parte che è nera La Coca Cola È verde smeraldo A parte che è marrone È nera È nera Ma tu di che problemi Se la bevi al buio Può essere che sia nera Ha contatto con le luci Oh è finito di girare il cavo Puoi parlare con gente Che gira il cavo Sembra un bambino autistico Mi fai girare il cavo Hai detto cavo Ci colleghiamo Con cavi vostri Comunque Parliamo di pubblicità No non mi interessa Aspetta Parlando è più difficile Vai Qual è il numero E Del colorante La Coca Cola Ma chi se ne frega 45 E 31 Ascolta un attimo Manchi da 120 puntate E arrivi qua Con queste domande di merda Allora ragazzi Io che sono un esperto Dei colori Potete dirmi Il numero E Del colorante Comunque dopo Ce lo dici all'olso Va bene Guardalo lì Con aria spavata Nessun problema E si gratta anche il pene Bordello Lo sai perché C'è verniciato una macchina Nello stesso coloro della Coca Cola E quindi sa il codice Cosa hai detto Bordello No no Ok Ho capito male Comunque parliamo di pubblicità Tra le frasi più usate Della Coca Cola Troviamo Dai Quella recente Degli ultimi anni Degli ultimi anni Quella è un'altra roba Recente Viva la No Ma Coca Cola non lo può dire Cosa dice Vabbè comunque Non me ne ricordo Mangia si vede Torniamo Enjoy De qualcosa Enjoy Enjoy the silence No quelli erano Depeche Mode Comunque le frasi pubblicitarie Sono state La bibita rinfrescante del mondo Ok Esoso Un attimino Però se ci pensi Collabora con tutte le più grandi Manifestazioni internazionali Perché i mondiali sono Classicamente sponsorizzati Da Coca Cola Tu pensa quanti soldi Che girano L'Expo di Milano Bevi Coca Cola era Bevi Grande difficoltà Che ti fa bene Quello che l'ha pensata Deve essere un fenomeno Anche noi potremmo fare Svalvolate un'air Ascoltali Ascolta svalvolate un'air Eh punto Punto Milioni che fioccano Come se piovesse Dal cielo Dal cielo Ma vuoi sapere il top Per personalità Ah Coca Cola è così Punto Punto Se ti va bene Eh va bene Se non ti va bene Se no prendi E te ne vai Prendi tu baracca Se va bene Lo dite voi Raga c'è un'altra pubblicità Che ha fatto la storia Della Coca Cola Qual è? Era un cartone pubblicitario Della Pepsi Che metteva Una lattina di Pepsi Con un mantello Coca Cola sopra Con scritto Vi auguriamo un happy Halloween E la Coca Cola Per risposta Ha messo la stessa immagine Al contrario Con scritto Ognuno vorrebbe essere Un supereroe Nooo Peso 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 Vabbè Comunque Queste erano un po' Di curiosità Sulla Coca Cola Che pupazzi Se ne avete anche voi Potete dirci Sulla nostra pagina Di Facebook Oppure venendo su YouTube E ascoltare qualsiasi cosa Hai detto pupazzi Ho detto pupazzi Vi trovate sul nostro Svalvolati store Stavolta ci colleghiamo Veramente con due pupazzi Oh mio Dio ma che collegamento Fantastico Sei bravissimo Sei bravissimo Grazie grazie Mi fai paura Compratelo Questo ragazzo Compratelo Perché è davvero bravo Non mi danno Settemila euro Per dire queste cose Compratelo Compratelo Ci colleghiamo Con Ploppy e Sniffy Prego Nella terra della fantasia No Tu che Parti Ce lo speriamo Che non partisse così E invece Guardali Sì Sniffy Sai Di chi è Il compleanno Certo E della figlia Di un certo Dottor No Oh c***o di nome No Dottor No E sai Cosa Ho messo Al posto Delle candeline Eh Che cosa Fuochi d'artificio No No Ma perché Che spasso Ma perché Di chi è il compleanno Nella terra Della fantasia Ci sono due pupazzi Maggi e stravaganti Che insegnano ai bambini Cosa Come crescerci e sali Sono Ploppy Ploppy E Sniffy Sniffy Divertiti con noi Che ignoranti Ciao 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 State bene? State imparando tanto con noi? Bella domanda del c***o E come chiede la Maradona Se è servito andare al centro di recupero Stai dicendo che il nostro programma Crea dipendenza come una droga? No Sto dicendo che Se non la smetti di dire str*****e Ti tiro un calcio nel c***o che domani c***o i pizzoccheri alla valtellina Che lettera abbiamo questa settimana? Questa settimana abbiamo deciso di leggere questa lettera strana firmata da Anonimo Ah no Finalmente un bel nome Anonimo Allora Sei più stupido di quel mio amico che dice che la Philadelphia ha un ottimo deodorante per le ascelle Buono Forza Leggi stupidone Allora Ciao Non posso dirvi chi sono Ma ho bisogno del vostro aiuto Anonimo Ho dovuto eliminare un paio di teppistelli indisciplinati Ed ora non so come fare sparire i corpi Come devo fare? Aiutatemi In cambio vi farò arrivare a casa un camion pieno di snack alla mela verde Cosa sono? Snack alla mela verde Vogliamo tua madre No Snack Mi ti ricordi? Gli snack alla mela verde Non sono quelli che volevamo usare per ingrassare i porci? Sì Ma non hanno funzionato Perché facevano sia c***o che vomitare E sono diventati tutti rachitici Già Dai Allora raccontiamo brevemente come far sparire un cadavere al nostro amico Anonimo Ok Vuoi il metodo Tchaikovsky o il metodo Masterchef? Abbiamo un catalogo Tchaikovsky? Chi è Tchaikovsky? Stupidotto È il musicista Quello che ha composto il lago dei Cine E lo schiaccianoci Oh E com'è questo metodo? Eh Quando non lo pagavano alla fine dei concerti Prendeva un mattarello e schiacciava le noci del proprietario del locale Fisco E dopo pagavano? Lo ho immaginato No Dopo lo legava in un sacco di juta e lo lasciava sul fondo di un lago Così i cini potevano urinarci sopra Che risotto è? Tutto torna Ma toglimi una curiosità Stiffi Com'era il metodo Masterchef? Ma niente Infili una trave di legno nel sedere e lo fai caramellare a fiamma bassa E' giusto Ma hai mai assaggiato? No Poi lo vendi al primo ristorante cinese che trovi Così lo servono al posto dell'agnello Non è vero Anche oggi siamo stati un esempio sano e genuino E' ora di andare Ci aspettano in quest'ura E vai Ciao In quest'ura? Sono Poppy E Smiffy Divertiti Tu mi devi spiegare perché questi sono sempre in quest'ura Devo fare un appunto Puoi venderlo come agnello se è giovane Ah si perché se non puoi La differenza si vede se hai fregato E' un casino E' un casino La carne rimane dura No buono Comunque mi raccomando bambini Seguite Poppy Sniffy ma non troppo Poi che muoro Perché non è che vi fa proprio bene Neanche il mio cane E' un casino che si vede Odarge Odarge